Siamo collegati con Giovanna De Crescenzo, come vi dicevo, da Brindisi. Giovanna, a te. Buon pomeriggio a te Michele e a tutti i telespettatori di Telenorba. Sì, siamo qui a Brindisi per affrontare il problema dello stato di abbandono in cui versano le nostre scuole. E lo faremo prendendo ad esempio due casi eclatanti. Uno è l'Istituto Tecnico Ferraris, che è qui proprio alle nostre spalle. E uno stabile che stava letteralmente cadendo a pezzi in testa agli studenti. E l'altro caso è quello della scuola elementare Don Milani, quello dei vermi trovati nei pasti della mensa. Lo stato di degrado in cui troppo spesso si trovano le scuole del Sud Italia non si limita di certo a questi due casi. Ad esempio, solo qualche settimana fa nella provincia di Lecce ci sono stati altri due episodi di mense scolastiche con cibo avariato. Tanti bambini intossicati. Insomma, noi abbiamo deciso comunque oggi di parlarne da qui, da Brindisi, insieme alle due direttrici degli istituti che vi ho citato poco fa, insieme a genitori arrabbiati che sono stanchi e vogliono urlare basta a questa situazione. E tutto questo lo faremo rimanendo in collegamento con voi per tutto il resto della puntata. Per adesso ti ridò la linea. Sì, noi torniamo in studio e voglio ricordarvi che al momento in cui faremo il prossimo collegamento, più avanti, nel corso della puntata, questa puntata di Buon Pomeriggio, avremo in studio anche rappresentanti, diciamo così, delle istituzioni, che vediamo se potranno darci delle risposte perché si risolvano questi problemi di Brindisi e un po' in tutti i guai dell'edilizia scolastica che sono particolarmente acuti, purtroppo, nel nostro sud e questa è una cosa che ci dispiace moltissimo.